Presidente di Federacciai, lo intervista Stefano Cingolani. Dove ha finito l'argomentazione del ministro Giorgetti? Lui ha chiesto, parlando dell'agenda Draghi, come si fa a realizzare la transizione energetica, comunque il Green Deal in generale, senza distruggere o soffocare l'industria italiana? Lei ce l'ha una risposta? Senza soffocare l'industria europea, oltre che l'industria italiana. E questo è il grande tema. Risponderei con una battuta, senza rinegare gli obiettivi di decarbonizzazione della nostra economia, ma applicando un metodo e una tempistica completamente diversa da quella che l'Europa ha usato negli ultimi dieci anni. Io credo che quando tra 20 o 30 anni si scriverà un libro su questa fase della storia economica europea, questo libro sottolineerà gli aspetti razionali che ci sono stati e che ci sono e che permangono dietro il Green Deal. Io mi chiedo come sia possibile prendere misure senza fare analisi di costi-benefici, senza fare analisi di impatto ambientale, senza essere consapevoli delle conseguenze sull'economia reale delle misure che si prendono. Le norme europee, ad esempio, vigenti oggi, può darsi che la Commissione le cambi, non credo, penso che sarà una questione di dilattazione temporale nella migliore delle ipotesi. Le misure vigenti oggi fanno sì che interi settori industriali europei, settori di base, chiudano all'orizzonte del 2030. Perché settori come l'acciaio, l'alto forno, la ceramica, pezzi di chimica, il vetro, quelli che vengono chiamati normalmente art to abate e che sono in cima alle filiere produttive della trasformazione industriale, questi settori qui, all'orizzonte del 2030, se le cose restano come oggi, chiudono. Faccio una battuta, poi veniamo a parlare dei forni elettrici italiani e di quanto noi siamo più avanti e avanzati da questo punto di vista, però chiudere l'acciaio prodotto con gli altiforni significa dare un colpo definitivo mortale all'automotive europeo perché noi siamo molto orgogliosi di fare acciaio da forno elettrico, qui i forni elettrici si vanno tutti i tipi di acciaio tranne uno, quello del profondo stampaggio che serve per fare le carrozzerie. Allora, dal 2030, con le norme di oggi, non si potrà produrre più in Europa acciaio per le carrozzerie, il che significa che l'industria automobilistica europea andrà a comprare questo acciaio in Cina, in Corea, in Giappone e cioè dai concorrenti sul settore dell'automotive. Però non è anche un incentivo a selezionare, a compiere un salto produttivo, un salto tecnologico. Io ricordo negli anni Ottanta il piano d'Avignon che ha provocato moltissime conseguenze, morti e feriti, come si suol dire, anche in Italia. Però è stata una spinta a trasformare anche il settore. No, ma indubbiamente, laddove esistono, io credo che richiedere l'applicazione delle best available technologies, cioè delle migliori tecnologie esistenti, sia una cosa giusta. Quello che non si può chiedere è l'applicazione di tecnologie che non esistono. E in molti casi è così. Siccome siamo a un festival dell'ottimismo e bisogna essere ottimisti e positivi, la storia dell'elettrosiderurgia italiana è una bella storia di invenzione creativa che nasce dalla miseria, nasce dal bisogno, che i nostri padri, la Greta Thunberg era ancora nel mondo dei sogni, inventarono un sistema di produzione dell'acciaio, non capital intensive rispetto alle siderurgie degli altiforni, perché erano poveri e non avevano risorse, di economia circolare antelitteram perché l'utilizzo del rottame, che era abbondante nel secondo dopoguerra, è la più grande macchina europea di economia circolare, e la connessione alle centrali idroelettriche delle valli prealpine creando una siderurgia completamente decarbonizzata, che è la siderurgia che noi abbiamo oggi. Noi sullo scopo 1, cioè sulle emissioni dirette, siamo già perfettamente in regola, però le norme europee ci dicono che dobbiamo occuparci anche delle emissioni indirette, cioè delle emissioni che derivano dall'acquisto di energia. Ebbene, io do una buona notizia al Festival dell'ottimismo del Foglio, perché l'elettrosiderurgia italiana, che ormai è l'85% della produzione di acciaio in Italia, non c'è paese al mondo che ha una percentuale di produzione di acciaio da forno elettrico così elevata. È per questo che noi ci definiamo campioni europei, ma vogliamo diventare campioni mondiali di decarbonizzazione, e vi dico perché. Allora, l'energia elettrica che noi compriamo per un terzo, compriamo dalla rete, per un terzo è rinnovabile. Quest'estate addirittura ci sono state giornate in cui si è detto che più del 50% dell'energia elettrica prodotta e consumata nel nostro Paese era da fonte rinnovabile. Benissimo. Il provvedimento che il Governo ha assunto e che partirà il 1 gennaio 25 sotto il nome di Energy Release cede agli energivori italiani, non soltanto agli siderurgici, una quota molto rilevante di energia rinnovabile comprata dal GSE e fino a ieri rivenduta in borsa, la cede alle imprese industriali energivori ad un prezzo un po' più simile a quello della media europea. E siamo a due terzi. Io sto lavorando intensamente con i francesi dell'EDF e con gli italiani di Edison per riuscire a fare un contratto in attesa del nucleare di quarta generazione, parliamo di dieci anni. Non delle piccole centrali. Nel nucleare di quarta generazione c'è un grande dibattito sulle tecnologie, quale tipo di tecnologie, quale tipo di taglia. Ma se io riesco a fare, se riusciamo a fare un contratto, un PPA, cioè un contratto a lungo termine, dieci anni, con i francesi di energia nucleare, l'elettrosiderurgia italiana e altri settori energivori saranno totalmente decarbonizzati. Anzi, si potrebbe creare una situazione in cui siamo addirittura carbon negative, e cioè abbiamo quote di CO2 da vendere sul mercato che diventano un incremento dei nostri ricavi tipici. Interessante e molto ottimistico. E l'ILVA? Che fine fa l'ILVA? Ci sono tutti questi interessi. Parlare dell'ILVA è come parlare del tricolore, della bandiera, e quindi bisogna essere prudenti e rispettosi. Certo, tutto quello che si poteva fare per mettere in crisi il più grande e importante impianto siderurgico europeo è stato fatto. Estremismo giudiziario, estremismo populista. Qualcuno ha proposto di trasformare quell'impianto in un parco giochi acquatico. Un esproprio sendenzennizzo a una famiglia di RIVA che è stata presentata come un'associazione a delinquere, cosa che non è mai stata. I RIVA hanno fatto a Taranto i più grandi investimenti, anche ambientali, che nessuno ha mai fatto prima. E ricordiamoci che comunque su 50 anni di vita dell'ILVA 35 sono stati di proprietà dello Stato e quindi ci sono dei privati. Quindi, voglio dire, se si devono cercare responsabilità e cause ce n'è per tutti. Siccome la siderurgia, in particolare se giudizia a ciclo integrale, è un settore capital intensive, cioè richiede investimenti continui, annuali, dal 2012 ad oggi, sono passati 12 anni, investimenti non ne sono stati fatti. Le gestioni commisariali hanno disintegrato 4 miliardi di patrimonio netto che i RIVA avevano lasciato dentro l'azienda, non sono stati fatti investimenti manutentivi, il degrado impiantistico è del tutto evidente, perché un impianto che aveva una capacità di 10 milioni di tonnellate a anno fa fatica a produrne due e mezzo. Ci sono alcuni nodi che se non vengono sciolti, al di là delle cordate o delle manifestazioni di interesse, non si va da nessuna parte. I due nodi sono le regole europee sugli altiforni, ma chi può venire a comprare e spendere soldi per acquistare impianti e rimetterli all'onor del mondo, perché in questi ultimi anni la gestione di ArcelorMittal ha disintegrato anche i piccoli altiforni, perché non avendo circolante, non finanziando il circolante, gli altiforni venivano accesi e spenti come un forno elettrico, disintegrandoli. Allora, chi viene a comprare impianti che necessitano di investimenti importanti? Siamo nel 2024, se nel 2030 questi impianti devono essere chiusi? Prima questione. Seconda questione, si parla molto di sostituzione del carbone col gas negli impianti di riduzione diretta. L'Europa, rispetto a una previsione del governo italiano che diceva che questo impianto, volta a decarbonizzare le produzioni di Taranto, doveva andare almeno al 10% di idrogeno, ha detto no, no, vi siete sbagliati. C'è una lettera dalla Vestager al governo italiano nei primi giorni del 2024. No, no, dovete metterci il 70% di idrogeno. Allora, io sono veramente esterefatto di come esca da un commissario europeo un numero senza neanche alcuna valutazione. Allora, un impianto di riduzione diretta consuma 750 milioni di metri cubi di gas l'anno. se tu dici che deve emetterci il 70% di idrogeno, dici che devi sostituire 500 milioni di metri cubi di gas equivalente. Non esiste in tutta Europa una produzione di idrogeno verde di quella dimensione. Insomma, smettiamo così perché, non solo perché non continuiamo perché sennò il festival dell'ottimismo diventa del pessimismo. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, grazie.